Bene, buongiorno a tutti, come di consueto dai laboratori Sound Machine oggi a presentarvi un intervento sulla BMW X3 fino al 2009 come anno di produzione. In questo caso troveremo la nostra autoradio business CD, una vettura normalmente non allestita con il dispositivo di navigazione. Con questa lavorazione artigianale dei nostri laboratori inseriamo un monitor utile a gestire la navigazione, chiaramente tutto tramite funzioni touchscreen e oltre alla navigazione potremo andare a gestire una retrocamera che si attiverà automaticamente all'inserimento dell'elettromarcia visualizzando le immagini degli ostacoli che staranno dietro la nostra vettura e un ingresso ausiliario audiovisivo dove potremo integrare il nostro dispositivo di intrattenimento quale potrebbe essere un DVD, un digitale terrestre a secondo di quello che riterremo più opportuno. Come vedete l'integrazione estetica è di straordinaria fattura, sembra un prodotto uscito dal BMW insomma. Avremo il vantaggio chiaramente di un dispositivo touchscreen di facile aggiornabilità e un prodotto garantito dalla qualità del marchio Alpine perché sia il monitor che il dispositivo di navigazione associato è un prodotto Alpine. Qui tutto quello che riguarda le tendine audio avviene in modo prioritario sul sistema business d'origine quindi in qualsiasi caso il dispositivo di navigazione debba darvi una informazione relativa alla navigazione interromperà l'audio di intrattenimento qualsiasi sia l'audio impostato e vi darà oltre al supporto video anche a un supporto audio in viva voce. Bene, con questa BMW della vecchia generazione della produzione fino al 2009 un saluto e vi aspettiamo nel caso in cui aveste necessità per operare anche voi sulla vostra BMW Serie 3 pre 2009, un intervento del genere, vi aspettiamo. Buongiorno a tutti!